ciao bello, c'è anche quello guarda che bello ciao cazofani però sai che è più bello quello colorato queste sono le lama sparano che belli ma girati uno può fare la foto che si girano tutti gli animali ma guardati ciao guarda che ce n'è anche lì ma sono un po' troppo lontani ciao belli salve secondo me uno è un maschio l'altro è una femminuccia stai attenta guarda che ce n'è un po' troppo lontano guarda che c'è un po' troppo lontano come in un po' troppo lontano come in un po' troppo lontano sono lì che dormono sono lì che dormono guarda che c'è un po' troppo lontano che faccia guarda che c'è un po' troppo lontano però mi da il culo non mi da non si gira quando mai ma perché si muove quando io mi giro di là non è giù perché sono diversi? e cosa cambia? ah la carne buf, forse è questo sinceramente non mi ricordo allora si dorme con i drani mi esce da lì che piccolino mamma mia guarda ma perché dormono tutti? secondo me almeno che c'è un altro qua no al telefono sembra rosa non so non so perché però dormono tutti ma pensavo che c'erano i più grossi ma dai ma perché dormono tutti? cos'è la giornata di dormire? ma guardati che bello che bello è questo immobile per farle ciao ciao è pronto l'altro gliorzo ci non qui è un'altra Buongiorno a tutti. 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 a presto Grazie a tutti guarda che prendi le schede e mi faccio il scritto lì perché mi piace? è capito sei bello piccolino solo che non posso portarlo a casa dove lo me lo metto? a parte che se mi porto a casa il mio padre mi ha ucciso mamma mia è capito che mi piace andiamo a trovare qui stai a guardare non posso in giro sta a dormire la tigre bianca fa che mi scappa da l'implino sempre luce colpisce ancora? no, non colpisce c'è il cigno e basta il cigno lo vedo tutti i giorni a Como non ho capito perché c'è il cigno poi ci sono le tartarughe piccole piccole che poi non ho capito non ho capito e perché gli danno pezzo le tigre bianca anche lo vedo E' dalla mattina che dormono. Non sanno neanche loro cosa devono fare. Ciao amico Fritz, salve, anche lei è stordito? Ti hanno un po' drogato? Secondo me è stupissimo. Tutti gli animali dormono, non ho capito. Secondo me gli hanno dato il sonnifero. Salve, arrivederci. Vabbè, ciao. Ha fatto un verso, si è messo a correre. Ha paura che gli rubiamo il piccolo. Forse ha capito. Ui, bella... Fammi vedere il dito, perché c'è il piccolino. Se ti avvicini sto qua, ti becca secondo me. Vedi? Io ho paura. Ciao.